Ciao Liz, se venissi a Bologna avrei cose meravigliose da mostrarti. Vorrei raccontarti della sua gente, della sua arte, della sua buona musica. Vorrei raccontarti di amicizia, di solitudine e di vero amore. Ma quante foto potresti fare qui nella grassa e rossa Bologna? La Bologna che pende non cade mai. Potrei raccontarti Bologna davanti a un caffè, ma non lo farò. Perché questo è un racconto da vivere in prima persona. Ti aspetto Liz.